Voi ragazzi della Casa del Popolo dopo la Befana Popolare lanciate un'altra iniziativa, quella della Spesa Solidale. Esatto, nasce il progetto della Spesa Solidale, un progetto ideato all'indomani del primo lockdown dove siamo stati impegnati in prima persona nella realizzazione di pacchi con beni di prima necessità per le famiglie indigenti del territorio attraverso delle associazioni che si occupano di volontariato proprio in questa città. Questo progetto non sarà di assistenzialismo ma punterà a far uscire da quelle situazioni di disagio le famiglie che purtroppo, o per la crisi economica o per la crisi sanitaria, purtroppo non navigano in buone acque. Il nostro progetto punterà a farli partecipare attivamente al progetto portandoli qui in sede e aiutandoci a fare le cassette e magari aiutare a loro volta chi li ha aiutati in passato. Sono circa 30 le famiglie che ci hanno già contattato, faremo il possibile per aiutarli e come dicevo poco fa proveremo anche a risolvere assieme a loro dei problemi che li affliggono durante il corso della vita e perché no magari trovare un lavoro che è la risposta più concreta alle difficoltà economiche che si vivono in famiglia. Abbiamo inoltre istituito un conto corrente della Casa del Popolo dove possiamo dare la possibilità a tutti coloro che non sono impossibilitati a raggiungere la sede di fare una donazione e quindi di supportarci da lontano. Troveremo tutte le informazioni sulla pagina della Casa del Popolo di Facebook lì troverete sia i numeri che il codice IBAN per fare la donazione. Dopo diverse assemblee abbiamo deciso che riceveremo in sede il martedì e il giovedì delle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 di sera per poi consegnare il sabato.